Amici, buongiorno, siamo sempre su KetoWeb Italia, ti ricordate il mio amico Nando? Io mi ho fatto il quadradura veloce, per potesia, veloce veloce veloce, dai, bagna il quadradura veloce, ecco, avete visto? Niente, spero di ritrovarlo la prossima volta, ah no, di una cosa, se vedi a mangiare le pizzette, sono pronto! Ecco, avete sentito? Niente, ci vediamo domenica, come vi avevo promesso, e faremo qualcosa di golosissimo, ciao!